Ciao! Ciao! Hai mai indossato un link? Eh? Guarda! Oh mio Dio! Wow! Ma cos'è questo quadratino? È un mob tag e se ci passi sopra la fotocamera del tuo smartphone ti manderà un link di Libera Piemonte l'associazione che si occupa di antimafia Eh, ma in pratica cosa faccio? È semplice basta indossarla sicuramente incontrerai qualcuno che vorrà vedere cosa c'è nel tuo mob tag Ehi, bel mob tag Posso fargli una foto? Certo! Ah, ma è Libera Piemonte! Allora, ti piace? Eh sì, però è un po' spoglia non ci metteresti un bel logo? Certo! Se vuoi puoi crearlo anche tu partecipando al concorso X Media Size ti basta caricarlo sul sito xmediasize.acmos.net Se vinci riceverai in premio una tavoletta grafica Urca! Una tavoletta grafica! Allora corro a casa a disegnare!